Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 24 giugno, lunedì, quindi mi raccomando questa sera c'è Quarta Repubblica in prima serata sul Rete4, fino al 15 luglio saremo in diretta, quindi non ci mollate così come noi molliamo l'informazione, perché in realtà tutti quanti noi ci chiediamo si va avanti con questo governo o non si va avanti, è la grande domanda di queste ore. Beh, oggi a leggere i giornali si vede che anche i leghisti al loro interno che si pensavano monolitici, un po' divisi sembrano essere, perché Giorgetti, quello che ci ha detto una settimana fa, che in una settimana si sarebbe capito che cosa sarebbe successo a questo governo, ancora non ci ha fatto capire nulla, l'unica cosa che ci ha fatto capire ieri il potenziale commissario europeo è che i mini bot sono una minchiata, come ha detto lui, e cioè chi crede più alle cose che fa Borghi, che è il presidente però della commissione bilancio della Camera, eletto lì dal partito leghista e piazzato lì proprio da Salvini, oggi c'è un buon gioco, in una piccola intervistina di spalla al Corriere della Sera Borghi dire sì, ma mi sono sentito con Giorgetti il fatto che i mini bot non siano una cosa verosimile, è una roba che ha detto ieri dopo che è stato tutto un giorno esausto, poi mi ha chiamato, mi ha detto non traprendere, insomma Borghi getta acqua sul fuoco, al contrario di quanto invece pensa il giornale che titola oggi crepe anche nella Lega, insomma c'è chi ci crede e c'è chi non ci crede, però insomma nei retroscena degli ultimi mesi si è sempre detto che la Lega aveva quest'anima diciamo di Giorgetti che era un po' meno filo Movimento 5 Stelle e filo Governativa, addirittura si parla Tito di infarto istituzionale, devo dire che questi di Repubblica sono molto bravi a coniare dei nuovi termini preoccupanti, l'infarto istituzionale sarebbe quello di Salvini che vuole completamente cambiare tutti quanti i giochi, obiettivamente Salvini sta giocando a tutto campo, va in America, convoca i sindacati al Ministero dell'Economia, vuole la flat tax, insomma fa il capo di partito che vuole avere la lion's share di questo governo, vuole avere il peso più importante, la quota di maggioranza di questo governo e quindi si comporta come tale, quello che viene letto da Repubblica è un infarto istituzionale, se diciamo la Lega dà adito a qualche crepa non meno buona la situazione, non più ideliaca la situazione del Movimento 5 Stelle perché lì Di Battista continua a parlare e non tace e obiettivamente parla, ogni volta che parla fa un casino all'interno di un Movimento che ha una sua fragilità perché ha diverse anime, oggi il Corriere della Sera fa i lealisti, i movimentisti, i dibattistiani, quelli che stanno con Fico e sono di sinistra, i buffagni che stanno invece lealisti ma critici con Di Maio, i veri invece di Maiani che sarebbero Bonafede e Fraccaro, due ministri, insomma si divide tutta questa monolitica pensata da Grillo, pattuglia di vaffanculisti in 6, 7, 8 correnti che la vedono diversamente, certamente Di Battista ogni giorno ne spara uno rispetto a Di Maio e non vede l'ora che questo governo cada, come sembra che sia ben capito nelle ultime ore. C'è un pezzo sull'economia italiana che viene da Fubini, produciamo di meno così l'Italia arretra e devo dire che io ormai Fubini non lo leggo, ve lo devo confessare, non lo leggo perché Fubini non per le cose di Soros, per le sue partecipazioni che mi interessano veramente poco, ognuno partecipa ai club che vuole, io posso anche partecipare a un club di scambisti e non per questo quello che dico può essere più o meno interessante, dipende da quello che dico, ma non per la partecipazione dicevo ai club che è poco interessante quello che dice Fubini, ma perché dice sempre la stessa cosa e cioè basta leggerla una volta al mese e capisci il punto di vista delle burocrazie tecnocratiche di Bruxelles che hanno un legittimo diritto di parola, ma te lo leggi una volta al mese, se te lo leggi tutti i giorni sei un fissato, sei un pazzo, quindi vi sconsiglio vivamente di leggere un pezzo così l'Italia arretra, cosa che più o meno sappiamo tutti e il fatto che produciamo meno della Germania e la nostra produttività è inferiore a quella della Germania, è una scoperta dell'acqua calda. Purtroppo mi sembra più interessante il pezzo di un altro pezzo di Corriere della Sera, il fondo di oggi è dedicato e scritto da Lucrezia Reichlin, una bella tradizione comunista alle sue spalle, quell'idea come diceva comunque Keynes che siamo tutti vittime di qualche economista defunto e Marx e Keynes ne sono purtroppo una dei club più famosi del mondo che ha influenzato generazioni di economisti, ha influenzato ovviamente tutti gli attuali economisti italiani che hanno letto più Keynes che Friedman, ma questo poco importa alla fine di questo pezzo, la Reichlin ci dice almeno una cosa che non ci ricordavamo, almeno alcuni come me, e c'è che sono dieci anni, dieci anni che l'economia americana cresce senza sosta e che obiettivamente gli spunti fiscali dati da Trump hanno prolungato questa crescita invece di farla abbassare con un ciclo economico che ha di alti e bassi nella sua tradizione diciamo centenaria e dice prima o poi una crisi ritornerà, non possiamo pensare che l'economia sia sempre in crescita, molto interessante il pezzo di Reichlin perché ci riporta tutti quanti giù per terra, invece quelli che ci porta tutti giù a lezioni di giornalismo e su questo io impazzisco, mi viene sempre il cavolo di sangue al cervello, vince a Istanbul un candidato sindaco diverso rispetto a quello del partito di Erdogan, va bene, di Erdogan, e i giornali italiani godono come dei ricci che ha perso Erdogan, ma uno, uno che mi spiegasse il Corriere della Sera che cosa pensa questo candidato che combatte contro il candidato di Erdogan e che ha vinto che ce ne fosse uno, invece a noi ci sta sulle palle Erdogan e quindi va bene chiunque vinca, ci possiamo mettere lì anche Belzebù, io magari questo non è Belzebù, magari è un progressista, è un laico, sicuramente sarà un socialdemocratico sicuro, non è un conservatore, ma me lo volete spiegare che cosa pensa? Oltre a godere giornalisti embedded contro il sultano, mi volete dire che cosa vuole questo? Di che partito è? È di sinistra? È di destra? È laico? E non è laico? Laico, per esempio, non è un dettaglio nella Turchia che si sta islamizzando, è laico? Probabilmente sì, ma me lo volete spiegare? No, l'unica cosa su cui godono i nostri giornalisti militanti è che ha battuto Erdogan, mi fa impazzire, voi direte chi se ne frega di questa roba qua, io vi dico, a me interessa, Travaglio oggi se la prende con il messaggero e contro i suoi giornalisti, perché si sono permessi di dire che era incapace la Raggi, cosa che ovviamente tutti quelli che vivono a Roma, tranne Travaglio, che ha il codice di procedura penale sugli occhi e d'altronde è il suo mestiere, quello di fare lo strillone del Movimento 5 Stelle e della Raggi, insomma tutti si rendono conto che la Raggi è incapace, ma Travaglio oggi dedica nelle sue pillolette del lunedì una divertente notazione nei confronti dei giornalisti, del messaggero che si sono permessi di dire che è incapace la Raggi, dice che i giornalisti e il messaggero sono dei servi, servi, e questo è uno dei modi degli insulti che spesso questi deficienti della rete traggono da Travaglio per insultare quelli che non la pensano come loro, servi, genio, fenomeno, servi, sono le tre cose che Travaglio ha sdoganato, Travaglio dice servi a tutti quelli che non la pensano come lui, e lui che è invece il vero sponsor, il vero strillone del Movimento 5 Stelle, come la sua stessa redazione gli ha, come si dice, fatto notare qualche settimana fa, il titolo fulminante del giornale indipendente, capace, che sta con la Raggi, ecco come si ferma la TAV, leggete il pezzo, sembra un pezzo di Fubini, dall'altra parte ovviamente, non ci capite nulla, cioè si ferma la TAV perché non arriverebbero i finanziamenti europei, insomma, in un pezzo delirante del quotidiano di Travaglio, bellissimo il pezzo di approfondimento del Sole 24 Ore che ci spiega sui dati mondiali 6,2 miliardi di Euro che passano da lavoratori che lavorano in Italia e vanno come rimesse all'estero, il 20% di questi 6 miliardi vanno in Romania, cioè scusatemi, la Romania ha il 20% delle rimesse che ottiene che arrivano dai suoi lavoratori romeni che lavorano in Italia e che rimandano i soldi a casa loro, non c'è nulla di male in questi movimenti, basti pensare che di questi 6,2 miliardi la bellezza di, ve lo dico, 1,4 miliardi, il 20% di tutte le rimesse che partono dall'Italia vanno all'estero, vanno a lavoratori domestici, siccome gli italiani non fanno più colfe badanti, ci sono colfe badanti per lo più filippine o asiatiche o sudamericane che prendono questi soldi e li riportano a casa loro. Lo trovate sul sole, bellissimo, oggi Giuliano Ferrara sul lunedì ci fa godere, sulla moda dell'antifascismo, della minchia, dell'ampi e di questi cazzoni che si inventano l'antifascismo senza aver conosciuto il fascismo, sostiene Ferrara, dice un conto era quello che facevano questi che almeno sulla loro pelle il fascismo l'avevano vissuto contro il Miss di Almirante degli anni 60 e 70 che comunque era sbagliato ma che poteva avere un senso, ma l'idea di questi cretini che pensano di abolire per legge Casa Pound, questi cretini non fanno altro che riportarci in un orrore della libertà e della democrazia e lo dice un ex comunista come Ferrara, non certo un fascista come neanche si può nominare. Mancano i medici e quindi la Grillo in un'intervista a Repubblica ci spiega che i giovani medici devono andare direttamente in corsia, macchetta magica della Grillo, ma l'ultima notizia che vi lascio in riflessione che coglie soltanto forse Maurizio Belpietro bene sulla verità è la questione del rave party alla sapienza. Io sono stato in quella università e tra l'altro stavo in economia che era un po' fuori dalla cittadella universitaria, in quella università se non sei di sinistra è meglio che non la frequenti l'università, ti cacciano a calci nel sedere, soprattutto lettere, scienze politiche, filosofia e fisica erano dei, ma soprattutto lettere lì sulla destra entrando alla cittadella universitaria era un disastro. Allora il punto fondamentale è che questi collettivi, come spiega bene oggi Belpietro, occupano l'università e la occupano per fare dei party, dei rave party. Ieri il party che avevano organizzato si chiama Sapienza Porto Aperto, vi rendete conto? Questi ci devono rompere le balle, occupare la sapienza per fare i rave party. Io sono un fan dei rave party, se li facessero i rave party, anche si pippassero quello che vogliono, a meno me ne fotte nulla, a differenza di Belpietro, se questi fanno droga, si bevono l'impossibile, facessero quello che vogliono. Quello che vogliono, ma non all'interno dell'università, ma non alla sapienza. Alla sapienza io voglio studiare, non voglio trovare il giorno dopo le lattine, non voglio vedere queste bestie, punk bestia o perselone che mi fanno orrore ancora con la Dolfa de Verdone degli anni settanta, che condividono con me il rave party. Il rave party ve lo fate fuori, nei vostri palazzi della minchia occupati, finché non riusciamo a disoccuparli, ma non alla sapienza. Per di più questi porti aperti hanno portato alla morte di un ragazzino che voleva entrare a questo rave, perché quello è considerato una discoteca, ma ovviamente è una discoteca che non ha i criteri delle discoteche, non ha le sicurezze delle discoteche, anche se abbiamo visto cosa è successo alla discoteca di sfere e basta, ma lì è ancora peggio, quindi scavalcando è morto. E io mi dispiace molto per questo studente della LUIS, laureato alla LUIS, cioè l'università privata romana, che deve andare alla sapienza al rave party, quindi vi dà il senso della transumanza, cioè dell'esempio che la sapienza è diventata una specie di rave party. Ma la colpa di chi è? Di questi ragazzi cretini che ci sono sempre stati? Ma fino a un certo punto la colpa è anche di questi professori, di questi rettori che si cagano sotto, chiaro? Che si cagano sotto. E a questi ragazzini, se tu fai il rettore, il preside di quella facoltà, dici non si fa il rave party da me, non si tollera questa roba. Punto! Punto! Non è che si discute, si può fare il rave party che ti fai pagare 3 euro per entrare, 5 euro per pagare, fai entrare. Se non entra la polizia nelle città universitarie, non entrano neanche i rave party, né più, né meno. Ma voi vi immaginate una roba di questo tipo in qualsiasi altra università del mondo? No, soltanto nella nostra università. Poi, voglio dire, le università sono sempre state, voglio dire, il centro anche della deregulation, dei pensieri nuovi, da quelli che un conservatore come me può non accettare. Ma il rave party all'interno della sapienza mi fa orrore. C'è sempre stato, c'è scappato il morto ieri e sono molto bravi, come racconta bene oggi Belpietro, a non far entrare Benedetto XVI Ratzinger, ma invece a far entrare i rave party. Si facessero una cannetta fuori dall'università e non rompessero le bale. Il presidente dell'ACI, intervistato dalla Verità, è fantastico, scusatemi da libero, ha tutta pagina, dice io ho l'auto elettrica, ma parliamoci chiaro, la mia auto elettrica produce più polveri sottili di un diesel Euro 6. Punto! Adesso ci saranno subito quelli che si arrabbieranno, ma l'auto elettrica c'è in Big Little Lies, ma non nella Verità, diciamo, di Roma, di Milano. La potete usare a monterei, forse, ma non da queste parti. Bene, direi, pensassero tutti a studiare altro che fare l'università, capre, dice qualcuno di voi, la Corte dei Conti, oltre al fatto per me, non ha nulla da dire, chi studia medicina, tirocinio presso i nostri ospedali, grazie Nicola, eccetera, ci vediamo stasera a Quarta Repubblica, dice Cristina, decisamente sì. A riguardo le colfe italiane prendono, vabbè, insomma, ci sono un sacco di notizie su tutto quanto, io saluto i miei amici di Instagram qua a destra e i miei amici di Facebook, che do appuntamento, ovvio, questa sera alle 21.30, ma questo governo dura o non dura? Lo scopriremo stasera. Ciao.